È nato l'amore? L'entusiasmo dei fan sui social . Luca Onestini e Ivana Mrazova si stanno innamorando? Dopo la fine del Grande Fratello Vip 2017, l'ex tronista e la modella cieca sono sempre più vicini e complici. . Luca Onestini e Ivana Mrazova // È nato l'amore? L'entusiasmo dei fan sui social . Luca Onestini e Ivana Mrazova si stanno innamorando? Dopo la fine del Grande Fratello Vip 2017, l'ex tronista e la modella cieca sono sempre più vicini e complici. . 08 dicembre 2017 Stella di Benedetto Ivana Mrazova e Luca Onestini Ivana Mrazova e Luca Onestini. . Luca Onestini e Ivana Mrazova usciranno presto allo scoperto? Dopo essersi conosciuti, stuzzicati e avvicinati durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017, l'ex tronista e la bellissima modella cieca stanno trascorrendo tantissimo tempo insieme alimentando il gossip. . In quel di Milano, infatti, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno trascorso una piacevole serata in compagnia di Aida Jespica e Raffaello Tonnon. . Proprio la venezuelana ha alimentato i rumors su Luca e Ivana parlando di coppia durante una diretta sul profilo Instagram della Mrazova. . Come se non bastasse, sembra che i due abbiano trascorso anche del tempo da soli allontanandosi insieme per le strade di Milano. Entrambi bellissimi, Luca e Ivana sono sempre più uniti e complici. . Tra i due, dunque, l'amicizia nata nella casa più spiata d'Italia si sta trasformando in amore?. . . Cosa sta accadendo, dunque, tra Ivana Mrazova e Luca Onestini? La modella cieca è davvero tornata single dopo la sua avventura alla vita reale? Al momento non ci sono molte certezze su quello che sta accadendo tra l'extromista Ivana ma i fans, sui social, sono già impazziti. . . Su Instagram, infatti, sono nate numerose fanpage dedicate a Luca e Ivana e sono tanti gli utenti che sperano di vedere presto i due innamorati. . . Già dentro la casa si vedeva questalchemia però hanno voluto portare rispetto, al cuor non si comanda. L'importante è avere rispetto per gli altri, sarebbe una bella coppia, io tifo per loro perché sono anche due bravi ragazzi. . . . . . .